Il motivo è molto semplice Il motivo è molto semplice O che fa dognolare? Siamo con il mister Massimo Gallo Mister è arrivato questa terza vittoria In altrettanti tre derby Oggi un'audace più forte anche del campo Della pioggia, del terreno pesante Infatti è la prima cosa che ho chiesto ai ragazzi L'adattabilità al campo E penso che la risposta è stata molto positiva Avete controllato sempre la partita Poi avete colpito nei momenti migliori Subendo praticamente quasi nulla Sì, sì, in effetti non abbiamo concesso nulla Stiamo cercando di attuare pure certi meccanismi nuovi E i risultati ci stanno dando ragione Naturalmente cercheremo di migliorare anche qualche situazione Che in passato non aveva dato degli ottimi risultati E questo è il momento opportuno per programmare anche per il futuro Sì, infatti oggi è sceso in campo anche Casale Insomma, queste sono partite importanti anche per progettare il futuro In vista dell'eccellenza Sì, adesso stanno facendo dei spezzoni Però naturalmente loro adesso avranno la possibilità Di esprimersi anche dall'inizio della partita Perché noi l'anno prossimo abbiamo il problema del 98, del 97 E dobbiamo cercare di trovare gente che corrisponde ai nostri meccanismi Naturalmente noi cercheremo di prendere sempre prima il Cerignolano Se riusciamo ad ottenere questo risultato bene Se no siamo costretti poi a vedere fuori Mister, ennesima vittoria, i record continuano Diventa anche per noi difficile trovare un aggettivo Un modo per descrivere questa audace Io l'aggettivo dico continuità Perché dobbiamo continuare fino alla fine del campionato Come ben sai, io dico ai ragazzi che dobbiamo mollare l'ultimo secondo del 17 aprile Quindi c'è ancora tempo Ok, grazie mister, complimenti Grazie, altrettanto a voi Siamo con il capitano dell'audace Cerignola, Gigi Di Pasquale Gigi è arrivata a quest'ennesima vittoria 2-0 Su un campo pesante, difficile come quello di Stornara Sì, abbiamo trovato un campo pesantissimo Importantissimo, anche se venendo la partita abbiamo davvero strameritato la vittoria Perché al primo tempo abbiamo giocato davvero la grande palla a terra Anche su un campo dove non potevamo giocare come sappiamo Però grazie a Dio che la partita è andata bene E abbiamo portato un'altra vittoria a casa Gigi, dove state trovando queste motivazioni con una Coppa Un campionato già vinto da tempo? Le motivazioni le trovi sempre perché da una società vincente c'è un gruppo vincente Perciò non vogliamo lasciare niente fino alla fine E dobbiamo continuare così Per tenere anche questo primato di imbattibilità che è una cosa molto bella Come volete chiudere quest'anno? Vogliamo chiudere da imbattuti e migliorando sempre di più Perché mancano poche partite alla fine Abbiamo vinto anche tutto quest'anno perciò siamo felicissimi Però mantenere questo passo così di imbattibilità è qualcosa di orgoglio per noi tutti Ok, grazie Gigi e complimenti Grazie a voi, grazie